Musica Un cordiale saluto da Andrea Fagioli e da Riccardo Bigi e come sempre ben trovati a questo consueto appuntamento con Toscana Oggi in apertura parliamo del terremoto questo terremoto infinito che sta colpendo così duramente il centro Italia e Lazio, l'Umbria, le Marche questa volta parliamo di Norcia perché è stato di fatto in zona di Norcia l'ultimo epicentro di una fortissima scossa di terremoto quella di domenica scorsa colpo al cuore della cristianità europea titoliamo così su una grande foto di quel che resta della basilica di San Benedetto a Norcia ovvero sia la facciata che incredibilmente è rimasta in piedi mentre tutto il resto è crollato però di quella domenica mattina ci ha colpito un'immagine ed è anche l'argomento di una riflessione ci ha colpito quella preghiera spontanea in piazza tra le macerie appunto della basilica di San Benedetto dapprima un frate, un monaco da solo che pregava a braccia allargate e poi alla sua preghiera questa supplica si sono uniti anche dei laici e poi le suore, le monache di clausura che hanno retto finché hanno potuto all'interno del proprio convento poi sono fuggite e hanno attraversato proprio il lato della basilica di San Benedetto dove da lì a poco sarebbe crollato anche il campanile fra l'altro aiutate da alcuni vigili del fuoco che compiono questo lavoro veramente a rischio della propria vita per salvare la vita degli altri ecco tutto questo lo mettiamo in evidenza in un breve commento in prima pagina e poi riprendiamo il tema anche del patrimonio artistico e di fede che sta andando perduto nelle pagine interne sempre nelle pagine interne e cominciando a scorrere parliamo di referendum lo facciamo sia nella pagina delle lettere su sollecitazione di alcuni nostri lettori e poi pubblicando la seconda puntata di un nostro viaggio verso il referendum del 4 dicembre questa volta parliamo della composizione del Senato del taglio ai costi della politica e dell'abolizione del Kennell e ovviamente tutte le volte proponiamo le ragioni del sì e le ragioni del no andiamo avanti a scorrere le pagine del giornale troviamo un primo piano dedicato al tema dell'immigrazione con alcuni dati interessanti perché per la prima volta dopo tanti anni l'arrivo di immigrati la presenza di immigrati in Toscana si stabilizza si ferma anzi in alcune province addirittura regredisce con un saldo migratorio negativo ovvero sia sono più le persone che lasciano la Toscana rispetto a quelle che arrivano questo per vari motivi evidentemente in particolare la situazione economica che non attira più come accadeva in passato e dall'altro lato invece il roveccio della medaglia le tante persone che lasciano la nostra regione in cerca di lavoro per studio per altri motivi questi sono i numeri e i dati ma accanto a questo ci sono anche iniziative interessanti come quella della CISL che vede insieme la CISL e Oxfam un'organizzazione internazionale che si occupa proprio della lotta alla povertà insieme per formarli al lavoro è partito dunque il primo corso per 16 migranti e profughi a Firenze il lavoro dice Fabio Franchi della CISL non ha razza né colore e iniziare con un lavoro certo corretto degnamente retribuito senza le ombre del caporalato e del lavoro nero è il primo elemento per avere una cittadinanza degna di questo nome e continuiamo a scorrere le pagine parliamo anche di malattie rare a proposito di un convegno in programma in questi giorni a Monte Catini Terme e ancora dalle pagine della regione il rapporto sulla casa in Toscana in calo sfratti ma situazione che resta molto complessa questo per quanto riguarda il discorso sulla casa in Toscana e poi ancora scorrendo tra le pagine di Toscana oggi arriviamo all'informazione religiosa arriviamo alla parte che chiamiamo ecclesia si intanto con la rubrica risponde il teologo con le domande dei nostri lettori e docenti della facoltà teologica dell'Italia centrale questa settimana una domanda curiosa una lettrice che chiede se è vero che San Pietro era sposato nel Vangelo non si fa nessun riferimento a una moglie ma si parla di una suocera di Pietro e questo quindi fa intendere evidentemente che ci fosse anche una moglie la risposta di suo Giovanna Kelly biblista spiega questa situazione e poi invece nelle pagine interne sempre nella parte di informazione religiosa il dramma della Siria con una intervista a padre Ibrahim che è il parroco di Aleppo un francescano i francescani hanno in cura diciamo così tutte le parrocchie della Siria padre Ibrahim in particolare dal 2014 parroco di quella che è un po' la città martire la città simbolo di questa guerra terribile e in questa intervista dunque racconta il dramma della guerra racconta il dramma di una popolazione senza acqua senza elettricità ormai da tanti mesi di una popolazione che vive sotto l'incubo continuo di missili che arrivano dall'altra parte della città allo stesso tempo però ci racconta la speranza le tante attese di questi bambini di queste famiglie di queste giovani che continuano a sposarsi a fare figli quindi il sogno il desiderio di veder continuare la vita anche mentre tutto intorno parla di morte e questo dunque per quanto riguarda l'informazione religiosa ma andiamo avanti sempre nello scorrere le pagine di Toscana oggi per arrivare alla parte culturale del settimanale in inventario presentiamo un libro questa settimana un libro del giornalista Mario Lancisi processo all'obbedienza la vera storia di Don Milani Lancisi si occupa da tempo del priore di Barbiana e questa volta lo fa ci ritorna prendendo spunto proprio dal processo che Don Milani ebbe a suo tempo e Lancisi propone però non solo questo episodio ma proprio una sorta di sguardo nuovo sulla vita di Don Milani raccontare la vera storia del priore di Barbiana e il suo rapporto con l'obbedienza questo è l'obiettivo dell'ultimo libro appunto del giornalista Mario Lancisi e ancora dalle pagine di inventario San Carlo Borromeo è un articolo di Carlo Lapucci il grande esperto di tradizioni anche di tradizioni religiose anche di quelle legate appunto alla vita alla figura dei santi e proprio in un periodo in questi giorni in cui abbiamo ricordato da poco la festa di tutti i santi Lapucci ci racconta questo santo particolare pioniere dice della moderna attività pastorale e sempre dalle pagine di inventario segnaliamo una storia abbastanza curiosa la storia di Gray è un mimo che lavora per strada in particolare lavora a Firenze nei pressi degli uffizi e lì è stato notato addirittura sarà invitato a Mosca parteciperà proprio a uno spettacolo all'interno del circo di Mosca e poi ancora sempre dalle pagine di inventario segnaliamo la consueta rubrica cinematografica il film a cura di Francesco Mininni questa volta parla di Io Daniel Black di Ken Loach l'utopia sociale tra coerenza e in maniera per la televisione invece affrontiamo il nuovo rischiatutto condotto da Fabio Fazio ma da qui andiamo rapidamente alle edizioni locali partendo da Arezzo con le pagine della voce di Arezzo Cortona Sansepolcro Sì qui si parla in apertura di lavoro quando il successo passa anche dall'etica i giovani del progetto Policoro hanno incontrato e conosciuto alcune esperienze l'esperienza in particolare di due aziende virtuose due aziende appunto che sono riuscite a creare lavoro senza rinunciare ai principi dell'etica e dalle pagine interne invece l'incontro dell'arcivescovo Riccardo Fontana con i musulmani si parla della visita pastorale che tocca in questi giorni la zona del Cortonese proprio a Cortona appunto l'arcivescovo ha incontrato anche la comunità musulmana e da Arezzo a Fiesole sulle pagine della parola troviamo un'iniziativa un convegno tra scuola e famiglia un gap da azzerare si parla di un'iniziativa che si chiama Immischiatia Scuola è un progetto del Foro Toscano delle associazioni familiari che è stato presentato nei giorni scorsi a Montevarchi e poi ancora un'altra notizia dalle pagine interne anche qui parliamo di visita pastorale del Vescovo Mario Meini in questo caso alla parrocchia della collegiata di Figline percorriamo insieme il cammino costruendo ponti e ci spostiamo ancora per andare sulle pagine fiorentine dell'osservatore Toscano si segnaliamo diverse notizie questa settimana intanto l'annuncio della chiusura delle porte sante la chiusura del giubileo che a livello diocesano avverrà il 12 novembre per quanto riguarda le basiliche dell'impruneta e della Santissima Annunziata invece domenica 13 dicembre in 13 novembre in cattedrale ancora dalla prima pagina parliamo del terremoto perché tra le tante tanti edifici andati in rovina c'è anche la Domus Letizie è la casa che ormai da diversi anni ospitava il campo estivo diocesano delle famiglie un luogo dunque a cui tante famiglie della diocese di Firenze sono particolarmente legate dunque un messaggio di affetto e di vicinanza che Elide e Giuseppe Cuminato responsabili della pastorale familiare della diocese hanno dovuto lanciare a queste persone a questi fratelli colpiti dal terremoto e ancora invece dalle pagine interne il ricordo di un anniversario era il 10 novembre del 2015 un anno fa quando Papa Francesco attraversava le strade di Firenze era in corso del convegno ecclesiale nazionale lo ricorda Domenico Mugnaini che in quell'occasione svolse il compito di addetto stampa e quindi seguì un po' diciamo dal di dentro tutta questa giornata e la racconta anche in maniera intima e personale poi ancora dalle pagine interne invece un altro racconto personale è quello che fa Don Luigi Innocenti che per tanti anni è stato il segretario particolare del cardinale Silvano Piovanelli per 20 anni è stato al suo fianco Don Luigi ha scritto la prefazione per un libro che si intitola Il parroco cardinale vita di Silvano Piovanelli un libro di Marcello Mancini e Giovanni Pallanti e in anteprima sulle pagine del nostro settimanale pubblichiamo appunto questa prefazione in cui il segretario particolare di Piovanelli racconta la sua vita quotidiana con tanti piccoli e grandi episodi E dalle pagine di Firenze andiamo alle pagine di Grosseto dove ritroviamo ancora una notizia di cui ci siamo appena occupati ovvero sia il parroco di Aleppo in Siria che sta appunto come detto girando per la Toscana sta raccogliendo solidarietà sta raccogliendo anche fondi perché c'è necessità di sostenere quelle popolazioni ed in particolare i cristiani che vivono in quei territori e per questo si parla sulle pagine di rinnovamento della generosità dei maremmani per Aleppo appunto quindi si parla di quello che è stato raccolto anche in questa occasione e sulle pagine di Grosseto però si ricorda anche l'alluvione di Grosseto perché soprattutto in questi ultimi giorni l'attenzione si è molto concentrata su Firenze del resto Firenze ha un richiamo particolare in tutto il mondo ma l'alluvione del 4 novembre 1966 riguardò anche tante altre località fra l'altro non solo in Toscana ma anche in altre parti d'Italia comunque anche Grosseto fu una città molto colpita dall'alluvione la chiesa fu in prima linea appunto nella carità quindi ci fu in qualche modo un fiume di generosità come si legge nelle pagine interne in quel caso il fiume che invece fu molto poco generoso fu Lombrone che appunto con le sue acque invase la città di Grosseto così come Larno invase Firenze ma spostiamoci a Lucca siamo sulla prima pagina di Lucca 7 sì qui si parla di vocazioni le vocazioni nella chiesa di Lucca il punto con l'arcivescovo Italo Castellani la notizia prende spunto da una relazione che Monsignor Castellani ha tenuto al convegno internazionale di pastorale vocazionale che si è svolta a Roma sulle pagine lucchesi di Toscana oggi dunque viene riportato questa relazione con alcune domande anche fatte al vescovo sullo stato appunto nella diocesi e andiamo in Maremma siamo sulle pagine dalla Maremma all'Elba nei giorni scorsi si è celebrata la solennità di tutti i santi sono commemorati i defunti però purtroppo c'è chi in quei giorni ricorda ben altra festa che è quella di Halloween e quindi si affronta questo tema dicendo che mentre Halloween impazza le mamme si preoccupano che l'Ave Maria possa spaventare i bambini è un articolo ovviamente polemico però è un fatto reale si racconta appunto di una mamma che ha mostrato preoccupazione perché nell'Ave Maria si parla di morte e pensate a che livello siamo intanto però ci spostiamo rapidamente sulle pagine dell'Araldo Poliziano in diocesi di Montepulciano Chiusi Pienza si qui prendiamo una notizia che è quella del Giubileo delle Misericordie mentre si avvia dicevamo verso la conclusione l'Anno Santo nella diocesi di Montepulciano Chiusi e Pienza le Misericordie si sono riunite per celebrare anche loro il Giubileo diocesano in una diocesi non grande come quella di Montepulciano Chiusi e Pienza sono ben 15 le confraternite attive questo per dire quanto sia radicata importante capillare la presenza delle Misericordie nel territorio toscano e siamo a Pisa segnaliamo rapidamente anche qui si è una notizia che riguarda il terremoto però si parla anche in questo caso della solidarietà che viene dalle varie diocesi italiane e ancora siamo invece qui sulle pagine di confronto in diocesi di Pitigliano Sovana Orbetello dove si parla del nuovo consiglio pastorale che è diventato esecutivo e poi andiamo invece sulle pagine di Prato dove come succede a Firenze si ricorda la visita di Papa Francesco un anno dopo ci sono tante iniziative per l'occasione ed in particolare anche una presenza molto significativa per ricordare questo anno ci saranno a Prato sia il nuovo portavoce della Santa Sede il nuovo direttore della Sala Stampa Vaticana a Burk insieme a Domenico Gianni che come si sa è toscano di origine a retino quindi è amico del vescovo di Prato Franco Costinelli ed è anche una delle persone più vicine al Papa in quanto è il responsabile stesso della sicurezza del Papa e siamo a San Mignato Sì qui si parla dell'Ordo Virginum è un'antica istituzione della Chiesa che si è molto rinnovata dopo il Concilio Vaticano II donne che si consacrano a Dio pur continuando a svolgere la loro vita laicale nella Diocesi di San Mignato c'è una consacrazione quella di Manuela Corsini è una giovane donna di San Romano che il prossimo 8 dicembre consacrerà la sua vita a Cristo e andiamo ancora avanti dalle pagine di Siena 2000 universitari in pellegrinaggio a Siena nella Diocesi senese il prossimo 12 novembre l'appuntamento sul tema costruire insieme la civiltà dell'amore sono i giovani universitari che si ritrovano a Siena e andiamo invece sulle pagine della voce di Valdinievole siamo in Diocesi di Pescia Sì qui si parla del terremoto del centro Italia si parla della lezio divina le attività che riprendono nella parrocchia del Corpus Domini a Montecatini e ancora sulle pagine di Vita Puana di Diocesi di Massa Carrara Pontremo le arte in carcere questa è una bella iniziativa che troviamo sviluppata anche nelle pagine interne dove si dice che nelle carceri di Massa appunto anzi nel tribunale di Massa è stata ospitata la prima rassegna nazionale di arte per detenuti e chiudiamo con le pagine dell'Araldo di Volterra Sì qui si parla della sofferenza un tema certamente molto attuale in questi giorni con il terremoto scandalo enigma e mistero così viene definita la sofferenza attraverso le parole di Enzo Bianchi il priore di Bosi ha tenuto una conferenza proprio su questo tema alla pieve di cellule dove appunto è presente una presenza monastica del suo stesso ordine e questa da Volterra questa notizia è l'intervento del priore di Bose e chiudiamo questo nostro appuntamento questa nostra rassegna stampa di Toscana Oggi a tutti un grazie per l'attenzione e come sempre alla prossima settimana a tutti